L'Elba è un'isola ricca di suggestione e di fascino, che solo un'ora di nave separa dalla costa. Se avete scelto il suo meraviglioso scenario per i vostri incontri congressuali, all'Hotel Biodola troverete la migliore accoglienza e una perfetta organizzazione sin dal trasferimento dei partecipanti all'evento, in comodi, minibus, dagli aeroporti di Pisa e dell'Elba. Il complesso alberghiero Hermitage e Biodola e del Golfo dispone di una capacità ricettiva di quasi 350 camere e di sale congresso tutte dotate delle più moderne attrezzature audio e video. Una grande sala che può contenere sino a 400 persone e diverse e più piccole, che contengono da 30 a 150 persone. Le soluzioni proposte per lunch o serate di gala sono diverse e sempre in location davvero uniche. Il ristorante Hermitage, elegante e raffinato La ghiotta, un ambiente intimo direttamente sulla spiaggia E l'esclusivo Moonlight con vista di tutta la baia Inoltre il fuoco di bosco, in un'atmosfera raffinata a bordo piscina, offre uno spettacolare buffet con barbecue e dopo cena, allieta gli ospiti con spettacoli, musica live e ballo, che regalano serate indimenticabili. Infine al My2, un locale con vetrate sulla spiaggia, gli chef preparano in presenza degli ospiti le migliori specialità toscane. Nei momenti liberi, i clienti dispongono del campo da golf Hermitage a 9 buche, con campo pratica e 9 campi da tennis. Possono praticare volley e calcetto, frequentare una scuola di vela e fare escursioni in canoa o in barche a motore. L'Elba è anche il luogo ideale per dedicarsi ad attività di team building, come la scuola di cucina o la gara di cocktail curate dallo chef. O per fare fantastiche escursioni di trekking o in mountain bike. Si possono visitare i luoghi in cui visse Napoleone o percorrere itinerari enogastronomici presso i produttori locali di vino e miele. Il personale, altamente qualificato e competente, vi offre una valida collaborazione e cura tutti i dettagli per fare di ogni vostro incontro un successo. Il personale, altamente qualificato e competente, vi offre una valida collaborazione e cura tutti i dettagli per fare di ogni vostro incontro un successo. Grazie. Grazie.